Immondizia buttata dalle finestre, pezzi di vetro, rifiuti, cibo, addirittura anche urina sui balconi sottostanti. Torna a denunciare il degrado di via Rigopiano a Pescara il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, sceso ancora una volta al fianco dei cittadini che, esasperati dalla situazione che si è venuta a creare, devono continuamente subire minacce in alcune circostanze, anche aggressioni. Situazione pericolosissima anche per l'insalubrità dei luoghi. A questo si aggiunge naturalmente alcuni occupanti abusivi che permangono, spaccio di droga diffuso, imponente. Ci sono persone che io non posso capirlo, persone ricche, le persone ricche, famiglie ricche, non possono stare in case popolari perché utilizzano le case popolari solo per attività illecite. Abbiamo persone che vediamo con macchinoni da 70-80 mila euro a fronte di cittadini che hanno necessità e bisogno di una casa popolare, veramente i poveri, i poveri che non hanno la casa popolare. Quindi i ricchi devono andare fuori, si deve fare un'indagine e vedere il tenore di vita delle persone. Non possiamo consentire alle persone ricche di stare all'interno delle case popolari, che tra l'altro non ne hanno bisogno e le utilizzano solo per delingue. Abbiamo ancora furti, allacci abusivi, corrente elettrica, acqua, addirittura il collegamento diretto, il bypass sull'acqua, bombole del gas perché non possono collegarsi abusivamente, lasciate sul balcone, al sole, e potete immaginare anche il pericolo di incendio. A tutto ciò si aggiungono 20 appartamenti, li potete vedere murati, non assegnati, pronti per essere occupati abusivamente. Appartamenti murati vanno assegnati ai cittadini che ne hanno diritto. Quindi qui è tutta una situazione vergognosamente. Ci sono ancora soggetti pericolosi che hanno puntato coltelli alla gola di questi cittadini, che sono stati aggrediti con coltelli puntati alla gola di alcuni soggetti. Ho chiesto l'allontanamento di questi soggetti, sono ancora qui. In tutto questo dramma io chiedo un appello forte al Presidente di Regione, perché sono case della Regione Abruzzo, al Sindaco di Pescara, di ristabilire subito, verifica dei requisiti, ristabilire la legalità in questi posti. Fare un'operazione di bonifica, di pulizia, togliere gli abusivi, assegnare le case non assegnate alle persone che ne hanno diritto, perché mettendo i cittadini onesti sicuramente si potrà risolvere e risollevare il tessuto sociale di questo posto.